Buongiorno, dovrei ritirare i miei pasticcini, sono pronti? Ma certo signora, arrivano subito. Gino! Ecco, sono quasi pronto. Dai, che vanno bene. Un pizzico d'oro per arricchire il nostro Natale. È fissato. Buongiorno, stiamo cercando un libro sulla moda. Martina, ci pensi tu alle ragazze? Ma certo! Venite ragazze! Vi consiglio qualche titolo. Va bene. Ehi, bomber, ma dove vai con quelle scarpe? Per fare il capo e aumentare il fatturato. Ti servono queste, l'outfit, prima di tutto. Signor imbruttito, per favore, torni a servire al reparto uomo che qua ci penso io. Ma beh, oh mi raccomando, non fare il giorgiano, eh? Vai di mochassino, di livello. Tutti possiamo fare la nostra parte. Questo Natale acquista e ordina nei negozi della Lombardia. Ripartiamo noi, ripartiamo tutti. Ah, una cosa ancora. Quello che avete appena visto è uno spot. Questa mascherina va portata sempre, specialmente quando si entra in un negozio. Buone feste e bei regali a tutti.